C'è o non c'è il quarto candidato a sindaco per Trapani? Una domanda pertinente considerato che non è più un segreto il fatto che l'avvocato Francesco Brillante stia valutando se scendere in campo o meno in rappresentanza di un'area moderata e progressista che annoverebbe non solo pezzi del PD ma anche il Movimento 5 Stelle e la formazione politica che si riconosce in Cateno De Luca, una questione non di poco conto che rischia di inclinare ulteriormente i rapporti politici dentro il Partito Democratico. Il segretario provinciale del PD, Domenico Venuti, traccia la linea da seguire. Quindi c'è un po' di confusione a Trapani. Allora io da questa confusione inviterei tutti a fare presto, prestissimo, una riunione degli iscritti e porre queste questioni con grande determinazione, con grande franchezza. Ciascuno dica la propria, il Partito provinciale accompagnerà questo percorso sapendo che se non si deve usare il partito, se non si deve discutere all'interno del partito, se non c'è possibilità di discutere delle alleanze, che non è un fatto secondario, anche alla luce di quello che è successo a Petrosino, parliamone dei compagni di processione, non facciamo che poi ci svegliamo magari senza sapere cosa è stato e questo non vuol dire assolutamente nulla, è un'analisi che va fatta ovunque e che deve fare il Partito Democratico, deve, ha il dovere oltre che il diritto di farla. Allora che si faccia questo in fretta e poi si vedrà quello che accade, altrimenti di fronte ad una situazione di smarrimento, ciascuno prenderà la strada che ritiene più opportuna. Francesco Villante è un componente della segreteria provinciale, è un autorevole esponente di questo partito, è un autorevole esponente di questo partito e da tempo ha sollecitato anche questo dibattito all'interno degli organismi, ma se questo dibattito non si fa, io non saprei davvero da dove partire, evidentemente c'è un problema che il Partito Democratico deve affrontare, deve il mio appello è ai dirigenti locali a non tergiversare più, a non perdere più tempo, perché altrimenti è chiaro ed ovvio che ciascuno poi nella confusione prenderà la strada che ritiene più opportuna.